Tragedia nel mondo della musica. Il figlio del famoso cantante muore a 17 anni, tutti sotto shock. Ecco i dettagli sull'incidente. Ciao a tutti, benvenuti al nostro canale. Prima di iniziare questo video, vi chiedo gentilmente di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace per supportarci. Oggi siamo qui per condividere una notizia davvero tragica che ha colpito il mondo della musica. Nel corso della serata di ieri, il figlio di un noto cantante è purtroppo deceduto a soli 17 anni. Resta con noi per tutti i dettagli scioccanti su questo drammatico evento. È con il cuore pesante che dobbiamo riportarvi questa notizia devastante. Il figlio del famoso cantante ha perso la vita ieri sera intorno alle 22.50 in un tragico incidente. La comunità di fan si è riversata sui social con messaggi di cordoglio per la drammatica perdita. Un amico speciale del cantante ha condiviso un toccante messaggio, dicendo che l'angelo del giovane sarà sempre con lui. L'adorato figlio di nome Andrea aveva soltanto 17 anni. L'incidente si è verificato a Napoli in via Dei Ciliegi. Andrea stava guidando un piaggio 125 quando è entrato in collisione con un palo della luce. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo, a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto, il giovane è deceduto sull'ambulanza. La bacheca dell'artista è stata invasa da messaggi di conforto e solidarietà da parte dei fan che condividono il dolore per questa tragica perdita. Gennaro Mellone, il cantante colpito da questo dramma, è stato descritto come una persona così buona e molti credono che nell'eternità di Dio incontrerà il suo amato figlio. Un tragico lutto che ha scosso il mondo della musica. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su questa storia straziante e per condividere insieme il nostro sostegno a Gennaro Mellone in questo momento difficile. Grazie per essere qui con noi.